amici di youtube bentornati sul mio canale plasticolando finalmente è arrivata ho preso una stampante a 3d a resina è la mia prima stampante per cui vediamo adesso mi si aprirà un mondo spero e vorrò condividerlo con voi perché questo video è incentrato su un dispositivo che dovrò utilizzare assolutamente con questa che però non fa parte del kit che viene comprato si tratta del riscaldatore per la resina perché molti magari non sanno che la resina sia essa normale o quella è lavabile in acqua hanno bisogno di lavorare con temperature diciamo più elevate rispetto alla temperatura ambiente ma perché la temperatura ideale si aggira intorno tra i 28 e i 30 gradi più o meno grado più grado meno mentre invece se noi lo usiamo in inverno comunque in casa non c'è mai più di 22 23 gradi in inverno per cui la resina lavorerebbe con una temperatura più bassa e quindi potrebbe dare dei problemi quindi eccola qui questa qui il corpo centrale della macchina niente questo qui è quanto ora vediamo il discorso del riscaldatore che vi dicevo per alimentare il riscaldatore utilizzerò questo vecchio alimentatore da pc che avevo in giro che non mi serve più e quindi userò questo ora lo smonterò e per estrarre la scheda taglierò via tutti questi cavi che non servono e vi faccio vedere come procedo ho ritagliato via tutti i fili e questi sono i fili di massa e quelli del 12 volt più il filo del power on che servirà per accendere il l'alimentatore poi ho trovato in ho comprato su in internet per questa scatola che è giusto giusto della misura adatta ho già fatto il foro il foro sopra per installarci la ventola di raffreddamento e come potete vedere la scheda entra perfettamente all'interno della scatola ea misura ora ora vediamo un attimino il disco a poi c'è questo che è l'entrata entrata della 220 che verrà messo dietro installato dietro adesso vediamo poi come fare davanti ho fatto la stessa cosa che ho fatto con il connettore di dell'alimentazione per quanto riguarda il tasto di accensione fatto il foro con il saldatore l'ho rastremato e poi ho inserito il pulsante ecco fatto qui al massimo adesso gli diamo una bella carta vetrata o comunque col taglierino di così per ripulire dalle bave adesso devo fare la stessa cosa dall'altra parte una volta che ho fatto i fori anche dall'altra parte della scatola i fori di ventilazione fisso la scheda sul fondo della scatola tenendo la ferma con quattro viti dopodiché inserisco il connettore della della 220 fermandolo con due viti con i relativi dadi sul sul retro della scatola qui invece sto inserendo il sto collegando il connettore scusate il pulsante di accensione al cavo di power on tramite due faston e poi lo inserisco nel relativo foro che ho fatto sul frontale della scatola allora mi sono arrivate le boccole e led a 12 volte che metterò qua e a questo punto adesso sto sostituendo questo mammut che c'era prima con questi connettori qua che andranno poi inseriti sui perni della boccola adesso installo prima di tutto il il led come così gli faccio passare i cavi dentro i fili dentro anche nel suo bulloncino di tenuta adesso saldo i due fili del 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 led ai contatti che poi andranno attaccati alla boccola ecco fatto allora attaccato anche la ventola attaccato tutto qui sembra tutto a posto richiudiamo e adesso facciamo una prova attacchiamo l'alimentazione e vediamo perfetto ok funziona ok adesso passiamo al riscaldatore vero e proprio ed eccoci alla parte principale del video cioè il riscaldatore vero e proprio che è composto da queste due componenti qua questo qua è il diciamo la serpentina riscaldante che ha collegato la ventolina che permette all'aria di passare attraverso la serpentina e quindi scaldare l'ambiente e questo qui che è il termostato il termostato dove qua ci sono i contatti del i primi due sono i 12 volte di alimentare il termostato e gli altri due servono per portare l'alimentazione al riscaldatore quando scatta il il suo relè che è comandato dal circuito questo qui è il sensore di temperatura che si verrà posizionato all'interno della stampante e quando il il termostato raggiungerà la temperatura di attivazione darà consenso al relè che manderà corrente al riscaldatore e alla ventolina ecco questo è lo schema del classico riscaldatore qui abbiamo l'entrata dell'alimentazione da 12 volt questo è il termostato e questi qui questi primi due contatti cioè esattamente questi qui a sinistra guardando i contatti dal davanti sono questi a sinistra corrispondono all'entra diciamo all'entrata dell'alimentazione per alimentare il termostato gli altri due contatti sono quelli del del relè del piccolo relè mentre qua così a vediamo il riscaldatore nelle sue due componenti cioè la componente riscaldante e la ventola che è in parallelo come funziona allora in pratica qui c'è il sensore di temperatura quando il sensore di temperatura raggiunge la temperatura prefissata chiude questo cioè scende sotto la temperatura prefissata chiude questo contatto del relè e permette alla corrente di circolare tramite il riscaldatore passa attraverso questo contatto del piccolo relè questo qui e poi torna alla alimentatore cosa succede in pratica qui così abbiamo una circolazione dai dati dicono che nel riscaldatore assorbe all'incirca 10 ampere per cui questi 10 ampere passerebbero tutti attraverso questo piccolo relè e questo mi ha dato da pensare che alla lunga questo relè potrebbe subire o guastarsi o subire dei danni per tutta quella corrente che gli passa quindi mi è venuto in mente di fare una piccola modifica al circuito in pratica la modifica consiste in questo fin qui il circuito è praticamente lo stesso cambia soltanto che l'uscita del piccolo relè del termostato non va più direttamente al riscaldatore ma passa tramite il secondo relè quello di potenza quindi funziona così in pratica quando il sensore dà consenso qui si chiude il piccolo relè del termostato il quale abilita il secondo cioè fa scattare il secondo interruttore cioè l'interruttore sul secondo relè che è quello di potenza quindi i 10 ampere adesso circolano in questa maniera vanno al riscaldatore passano attraverso il relè di potenza e poi se ne tornano alla massa quindi bypassano completamente il piccolo il piccolo relè del termostato per cui questo dovrebbe allungare la sua vita operativa o comunque diminuire molto le probabilità di guasto in quanto tutta la potenza passerebbe di qui qui al massimo ci sarebbe una piccola corrente necessaria solo per l'attivazione del del secondo relè questo è il secondo relè della bosch anche qui metterò il link in descrizione dove l'ho preso è un relè automobilistico dovrebbe portare penso al massimo 30 ampere qui adesso si 12 volte 30 ampere di picco diciamo di corrente massima quindi è più che sufficiente perché il riscaldatore dai dati ha un assorbimento massimo di 10 adesso resta diciamo così l'ultima parte che è l'involucro per poter tenere dentro sia il riscaldatore che il l'altro relè e il termostato in internet troverete un sacco di tutorial che fanno vedere anzi addirittura si possono trovare gli schemi per stamparlo di una scatolino piccolo così in cui si possono mettere dentro questi due componenti perché io non invece ho optato per un'altra soluzione per ben due motivi il primo perché non avendo una diciamo così una stampante a filamento non posso stamparla e ovviamente quella resina finché non realizzo questo non posso usarla ma il secondo motivo molto più importante è che ovviamente quello scatolino che trovate di cui trovate gli schemi anche in rete non permette l'inserimento del secondo relè cioè è troppo è troppo diciamo troppo piccolo è fatto solamente per queste due per questi due componenti allora cosa come poter risolvere ho trovato in internet sempre sempre vi lascio la descrizione questa scatolina che è perfetta è molto piccola per prima cosa adesso smonto la ventola dal suo supporto e tiro e tiro via il riscaldatore perché adesso devo fare una modifica ecco allora in pratica questo deve andare più o meno a questa altezza qua quindi adesso devo tagliare via questi due questi due supporti che non servono e modificare poi questo per adattarlo a questo ecco fatto ho fatto il foro più grosso per i tre cavi del riscaldatore e questo più piccolo dietro non so se si vede per i cavi della ventola perché la ventola è posizionata più indietro come potete vedere così a questo punto non mi resta che fissare questo alla scatola allora in pratica ho attaccato l'involucro del riscaldatore alla scatola tramite della colla ipossidica bicomponente poi ho aggiunto ritagliato dei pezzi di metallo da una lastrina di metallo spessa mi pare 3 o 4 mm questi due pezzi e li ho annegati con la colla a caldo in modo tale da appesantire la scatola e tenere il baricentro il più basso possibile infatti come potete vabbè a meno che la piego troppo come potete vedere rimane giù è anche bella pesante poi ho eseguito il foro sulla parte anteriore della scatola dove avevo inserito il termostato e ho fatto un forellino dove ci inserirò il led siccome non avevo il led già fatto già comprato ho dovuto prendere un normalissimo led di colore rosso li ho attaccato in serie al catodo non mi ricordo mai se il catodo o l'anodo diciamo sul più li ho attaccato una coppia di resistenza in parallelo in modo tale da diciamo da raggiungere il valore adatto per il 12 volt e poi ho attaccato due fili e questo il led poi verrà inserito qua lo attaccherò con della colla a caldo i fili passeranno sotto e andranno poi dopo ad attaccarsi al circuito aggiornamento allora qui ho messo il led con i fili che andranno attaccati poi al circuito e verrà una cosa del genere alla fine questo è diciamo l'aspetto finale e qualcuno potrebbe dirmi ma perché hai messo quel led tanto lo vedi dai display è vero vedo i numeri quando è in funzione vedo i numeri i numeri delle temperature però non posso sapere se il riscaldatore è in funzione cioè se questo relè è operativo se si sia attivato quindi lo metterò in serie scusate in parallelo all'uscita verso il riscaldatore perché se lo mettessi in parallelo su questo comunque non potrei sapere se il secondo relè scatta mentre invece se lo metto in parallelo sul secondo relè è ovvio che anche il primo è in funzione dopodiché ho messo questa paratia giusto per tenere il relè incastrato bene che poi anche non si muova cioè sì certo non si può sfilare così ma che non vada in giro quando è in funzione poi qui così potete vedere il come si può estrarre o inserire facilmente ho dovuto allargare leggermente i fori là sotto perché altrimenti questa parte qua che è un po più larga del cavo non sarebbe non riusciva a passare adesso devo fare però una cosa questi cavi qua sono molto rigidi molto rigidi e quindi sto cercando di vedere se è possibile sostituirli con qualcosa di più morbido in modo tale poi dopo da torcigliarli bene perché come potete vedere non si riesce poi ad arrotolarli e tenerli diciamo in questa in questo spazio qua quando sarà tutto chiuso adesso vedo come fare proseguo finito allora in pratica ho eseguito tutte le connessioni sia del relè di potenza tutto quanto qui così sulla fiancata ho fatto un foro per poter infilare o sfilare il sensore nel caso debba fare delle modifiche o quant'altro per cui adesso qui chiudo tutto ho già provato si riesce a chiudere senza nessun problema qui quando fate questo se qualcuno di voi farà questo tipo di lavoro fate attenzione alla posizione del termostato perché qui così deve essere esattamente in questa posizione altrimenti se troppo in giù va a toccare dentro nel nella paratia e nel nel relè di potenza se troppo in alto va a toccare con questi ha giusto qui ho modificato i tre cavi che arrivavano dal riscaldatore ho dovuto mettere questi mammut per poterli poi dopo attaccare a dei fili più adeguati ok adesso chiudo il tutto usando i loro viti bene metto per adesso ne metto solo due giusto per fare una prova e eseguiamo il test per vedere se funziona tutto poi vi devo spiegare come funziona il discorso del settaggio del quando accendete la prima volta uno dei settaggi di default è che è impostato sul raffreddamento e non sul riscaldamento per cui se lo lasciate così non funzionerà mai per cose dopo vi faccio vedere come modificarlo allora in pratica accendo allora come potete vedere qui adesso il led è acceso per cui sta scaldando infatti l'aria adesso che esce calda allora facciamo conto che vedete la temperatura sale arrivata a 28 dovrebbe staccare esatto ha staccato a 28 stacca e ovviamente lui non sale più la tempo vabbè va c'è una certa inerzia termica comunque sale adesso si sta riscendendo perché si deve adeguare alla temperatura si sta adeguando alla temperatura ambiente acceleriamo un po il processo con dell'acqua fredda infatti lui probabilmente è impostato adesso di default a due gradi sotto il 28 e infatti si è riacceso simuliamo che sia dentro nella stampante quindi la temperatura all'interno della stampante sta risalendo è arrivata a 28 che è l'impostazione scatta di nuovo perfetto è perfettamente funzionante ora vediamo il discorso dei settaggi allora per qui vedete due tasti il primo quello inferiore è quello per passare da celsius a fahrenheit vedete questo adesso in fahrenheit e così in celsius mentre quello superiore il set cioè quello per accedere al menu per poter accedere al menu bisogna tenerlo premuto per 5 secondi farà un bip e si posta su p0 p0 sono da p0 a p8 sono i vari i vari settaggi quelli che a noi interessano non sono tutti ma se ne sono solo quattro allora il più importante ovviamente è il p0 eccolo qua vedete che c'è una h se io entro tenendo premuto una momentaneamente i due tasti contemporaneamente sono entrato in dove c'era quella h dimenticavo se per dopo 5 secondi non fate niente lui esce salva ed esce quindi dovete rifare allora p0 vedete che adesso c'è h o c c sta per cooler cioè raffreddamento aspettate che qui ok devo tornare un attimo dentro e h sta per heater cioè riscaldamento ok vedete che comunque hanno messo su h lui si è impostato e si è acceso mentre invece se era su c è raffreddamento e lavora al contrario perché però per questo per quello che dobbiamo fare noi non va assolutamente bene poi abbiamo il praticamente c'è il p2 un attimo ok il p2 che impostato a 110 no un attimo che ho sbagliato scusate allora il p2 che è impostato a 110 che praticamente sarebbe la temperatura massima il limite della temperatura massima però però è impostato a una temperatura troppo elevata che non serve quindi l'abbassia l'abbasso la porto a 40 per evitare appunto l'inerzia termica e tutto quanto diciamo che 40 penso che sia una temperatura adeguata un attimo 340 ecco lasciate e lui si automaticamente la salva dopo abbiamo il p1 il programma p1 pista per programma ed è impostato a a due gradi diciamo cioè praticamente è il gap che c'è tra l'attivazione la disattivazione in sostanza lui di default impostato a 2 gradi cioè se io adesso ho per esempio 28 che ha 28 diciamo scatta si attiva in pratica cosa succede se qui ci sono le temperature mettiamo 38 29 28 27 adesso non consideriamo i decimali lasciamo temperature così no mettiamo che io voglio lavorare a 29 gradi questa è la mia temperatura massima cioè lui praticamente appena arriva a 29 ferma e chiude cioè apre il contatto e termina l'irriscaldamento ovviamente da quel momento lì la temperatura scende ora di default impostato a due gradi di differenza tra l'attivazione la disattivazione e direi che forse magari un grado di differenza penso che sia più che sufficiente non non fatelo meno di un grado perché altrimenti continua solo attaccare staccare attaccare staccare non va bene diciamo un grado penso un grado massimo un grado e mezzo ma anche due volendo però non di più ecco e lo si può impostare appunto tramite il tasto il programma p2 allora andiamo a settarlo no scusate ho sbagliato era il p1 p1 qui è impostato a 1 e 7 lo porto diciamo facciamo a 1 a un grado di differenza quindi adesso abbiamo impostato finora abbiamo impostato il p0 che è il la scelta tra raffreddamento e riscaldamento il p1 che è questo qua della differenza dei gradi il p2 praticamente è il limitatore della temperatura massima che l'abbiamo l'ho impostato a 40 e adesso rimane il p4 il p4 praticamente sarebbe la calibrazione della temperatura allora prima di vedere il p4 un'altra cosa per quanto riguarda il settaggio della temperatura di lavoro quella in cui la massima temperatura di lavoro dove dopo il quale lui stacca si spegne il riscaldatore si fa così da fuori senza entrare nei menu si preme una sola volta per un secondo il tasto set quello superiore qui lampeggia e poi qui possiamo impostare con i due tasti su e giù possiamo impostare la temperatura massima di lavoro che in questo caso di default è 28 ora avendo impostato nel menu la differenza tra attaccare e staccare di un grado allora io praticamente opererò a 28 gradi e nel range 27 28 ovviamente se si interessa magari elevare a 29 o a 30 si può fare così cioè si imposta quasi va quasi preme per un secondo e poi si si regola a piacimento ad esempio adesso io la porto su a 29 che era la temperatura che comunque avrei settato per il per la mia stampante e avendo messo un grado di differenza lavorerò nel range 28 29 detto questo passiamo al p4 il p4 è praticamente la la calibrazione della temperatura allora abbiamo due due temperature da tenere in considerazione quella che lui segna con il sensore che è questa qua e quell'ambiente che viene dovreste utilizzare un termometro digitale io purtroppo non ce l'ho in questo momento ho una temperatura che si avvicina cioè lui ma qui dice 18 e mezzo 18 e 8 mentre qua invece ho mi segna 19 1 quindi che cosa che cosa bisogna fare la formula di calcolo è la temperatura che io ho in casa per esempio quella che chiamiamola abbiamo detto 18 e 8 meno la temperatura che lui segna in questo caso è 19 e 3 e in pratica il totale fa meno 0 5 allora bisogna andare a impostare dentro in p4 questa cifra allora andiamo andiamo nei menu ok e adesso il termostato è completamente settato adesso vi metto un diciamo un'immagine dei menu questa qua magari adesso ve la ingrandisco e ve la metto come sfondo se avete bisogno comunque è sul foglietto detto questo abbiamo finito un'ultima cosa che forse mi sono dimenticato di dire quando siete nei menu così e scorrete il menu che vi serve per entrare avete proprio un secondo di tempo per entrare a modificare i valori dovete premere contemporaneamente i due tasti e poi lampeggerà il numero di sotto che significa che si può modificare e sempre velocemente dovete usare i due tasti per salire o scendere con il valore altrimenti dopo circa un secondo 2 lui esce poi i famosi 5 secondi in realtà sono meno basta 3 secondi vediamo 1 2 3 eh sì 3 secondi sia per entrare che per uscire non erano 5 mi dispiace l'errore ed ecco come verrà posizionato nella stampante il dispositivo riscaldatore verrà messo qui qui farò passare il sensore che verrà posizionato di qui il più lontano possibile in modo tale che la temperatura verifichi la temperatura media dentro nella nell'involucro qui abbiamo il cavo di alimentazione questo qui è il coperchio dovuto praticare un piccolo foro per il cavo di alimentazione che verrà verrà messo così un attimo è tirato il cavo da dietro ecco fatto il cavo verrà messo così e questo è quanto vediamo da fuori si dovrebbe riuscire a vedere il la temperatura vediamo un po ok adesso invece molta luce spengo un attimo un po di luci esterne vediamo perfetto come potete vedere se si riesce tranquillamente a leggere i numeri e a vedere il led di attivazione della del riscaldatore mi sembra di aver detto tutto se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like e di se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale così mi darete un aiuto un supporto per farlo crescere e vi aspetto numerosi al prossimo video ciao a tutti